Oggi andremo a vedere come funziona il blocca riquadri di Excel. Ipotizzando di avere una tabellina di questo tipo, dove se noi scrolliamo verso il basso abbiamo sempre il riferimento del titolo perché Excel è intelligente e ce li sostituisce al nome di colonne, però se dobbiamo andare in serie delle colonne perdiamo il riferimento della colonna che dobbiamo utilizzare. E se appunto andiamo verso la destra perdiamo il riferimento dei prodotti, quindi questa riga non sappiamo a quale prodotto corrisponda. Su tutto questo ci viene in supporto blocca riquadri, quindi noi vogliamo bloccare le prime due righe e le prime due colonne. Per fare questo basterà cliccare sulla cella C3, quindi noi andremo a bloccare tutto quello che è a sinistra di questa cella e tutto quello che è sopra questa cella. Andiamo nel menu visualizza di Excel, finestra, blocca riquadri, blocca riquadri. Ecco che così facendo adesso quando ci spostiamo verso il basso le prime due righe saranno bloccate e se andiamo verso destra le prime due colonne saranno bloccate. Per ripristinare rifacciamo l'operazione inversa, quindi sempre su C3, menu visualizza, finestra, blocca riquadri, sblocca riquadri. Ecco che così facendo Excel torna al suo stato originale.